ma non è possibile che ancora il mio papino sia ancora tornato ma quanto è che tornerà eccomi sono arrivato ciao papino scusa ritardo dove era andato papà era andato a lavoro a lavoro che a lavoro a sistemare no tagliare gli alberi vuol dire che tu guarda da un'altra parte sì e quindi io non posso venire allora non so me niente certo se uno di noi a meno male e comunque dai giochiamo un attimo giochiamo io sono un po troppo stanco oggi ho lavorato molto no dai sarà un gioco bellissimo potremmo giocare a un nascondino uno due tre stella dai dai giochiamo no ti prego io ho già lavorato ma giochiamo un'altra volta ho inventato un altro gioco dai ti prego vieni con me no ti prego io giochiamo domani dai ti prego ti prego oh guardate guardate ho inventato questo gioco dove posso fare e hop e hop e hop e hop e hop oh ti prego mucchina io non sono molto stanco ti prego dai dai è molto facile e hop e hop e hop no ti prego io sono molto stanco ora voglio andare a dormire in pace e hop 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 ecco qua così sei felice e hop e hop e hop e hop ti prego ti prego ti prego io sono molto stanco lasciami andare a dormire giocheremo domani va bene ti prego guarda e hop 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 ti prego mucchina adesso basta ma che non ho detto di no io non voglio giocare sono molto stanco lasciami giocheremo un'altra volta va bene promesso ma tu non vuoi mettere le promesse tu vai sempre lavoro e che posso fare giocheremo un'altra volta va bene no non voglio più fidarti come non vuoi più fidarmi tu te solo so perché tu mi lasci da solo poi tu vai a lavorare e tu no io non posso mai stare insieme e che posso fare io bisogno di un lavoro ma tu così vuoi che continui così presto non ti voglio mai più vedere la mia vista cioè così solo tu non stiamo mai insieme solo tu vai a lavoro io che posso fare da basta se continui così non ti voglio vedere mai più basta così non ti voglio più vederti sei un peso oh no no non ti prego non volevo dirti questo allora vuol dire che io sono te un peso no no non ti prego non volevo dirti questo sei cattivo me ne vado non ti voglio mai più vedere addio no pochino aspetta mi fermo molto bene che cosa posso fare già perché ci sono tutti qua oggi faremo qualcosa di molto bello che cosa oggi faremo qualcosa cosa voglio fare prossimi unboxing mi sa che è un'ottima idea che cosa possiamo fare se possiamo un unboxing di pasqua è un'ottima idea forse è meglio fare l'unboxing di pasqua già forse hai ragione eh 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 oh ciao ragazzi oh guarda c'è mucchina oh ciao mucchina che ci fai qui oh buongiorno a cosa ci fai qui ciao oh niente eh sono da secoli che vuoi vedere perciò sono venuto a venire di salutarti oh che c'è sto gentile grazie mille sei molto gentile eh sì sono venuto qui a presentarti sì insomma quella cosa sì sì insomma quella cosa vabbè sono molto felice di rivedervi oh grazie sei molto gentile eh c'è qualcosa di strano c'è qualcosa che non va eh sì infatti che è strano perché se oggi si comporta così no niente sta a posto eh dove hai finito tuo padre perché quando non è con te ah mio padre non ne vuole lasciare lasciano stare che cosa è successo sta male no 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 sta bene sta bene è solo che è andato a fare una spesa ma come fa la spesa oggi non si fa spesa domenica e domenica si riposa eh vabbè vabbè pazienza ma però almeno sono felice no va bene sta bene è andato a riposare ah allora va bene allora non sono molto sicuro ah diccelo no no non diciamo niente nessuno te lo prometto diccelo va bene che oggi ho litigato con mio padre cosa hai litigato con tuo papà ma perché sentiamo eh noi abbiamo litigato ecco lo sapevo sapevo che lui ha rubato il lombitello adesso ti riporto dove sei no non farlo forse hai ragione non è meglio affidarsi hai ragione riportiamo dalla sua famiglia già è meglio no aspetta non possiamo fare questo oh io che fai no piccolino il tuo papino ti vuole bene ma solo che qua non può solo perché ti ha sgridato ma non significa ma non ho detto che lei sei un solo un peso va bene bucchino non fa niente non c'è più qualcuno ti può dire qualcosa di sbagliato ma ma dopo passa tutto ma puoi vedere ascolta davanti dicelo non mi dispiace ma purtroppo non ho genitore mia madre è morta anche a me una volta avevo dei nonni ma purtroppo sono morto a causa di un di un cacciatore cattivo anch'io io avevo una sorella ma purtroppo è stato riguardato da uno squalo tigre per colpa sua va bene senti piccolo il tuo papino ti vuole bene no non ti vuole dire che ti odia ogni genitore sempre tanto curioso e le volte hanno un lavoro molto da fare perciò non devi scappare via di casa e te lo provo magari il papà ti tornerà ti chiederà scusa magari non ha esagerato molto no questa volta molto esagerato ha detto che io sono un peso va bene non fa niente qualche volta può capitare di dire degli errori ma dopo passa tutto mi direi che dopo non succederà mai più promesso oh e va bene vuole dire che adesso tornerò a casa ma cos'è questo oh no è il padre di mucchina oh no fresco la scuola è dietro di me oh grazie grazie eccolo sta arrivando oh ragazzi ragazzi aiutate adesso mi devo aiutarmi cosa è successo sentiamo mucchina scappato di casa eh mucchina ma chi è mucchina ma che sta dicendo sciocchina cretina noi lo conosciamo ma a me non so bene niente ma io sono bravo a dire ah di me cosa è successo sentiamo eh oggi noi abbiamo litigato per una cosa che lui è un peso ma ma purtroppo io ho detto delle cose orrime ma purtroppo io li voglio solo bene al mio figlio perciò non voglio che il mio figlio si arrabbi molto voglio solo che il mio piccolino si cerca sempre a giocare qui con me perciò non c'è bisogno che il mio figlio si arrabbi molto e perciò non potrei giocare con me ma purtroppo vado a lavoro perciò vuole giocare con me ma gli promette che non gli iscriterò mai più promesso oh no vuole solo giocare con me ma purtroppo so perché ha molto lavoro perciò meglio che vada ehi papino piccocchino eccoti oh mi dispiace come ti ho detto delle cose orribile no ti prego tutto è passato dai andiamo a casa si va bene andiamo a casa tutto quello che vuoi andiamo a casa ragazzi scusate per il disturbo ma adesso porto il mio piccoletto a casa purtroppo ciao ci vediamo ciao ciao tutto bene quel che finisce bene già voi viene da piangere quando papà vuole rimbembre io sono piccolino già oggi è però la festa del papà perciò mi do un bacino no 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 che fu che fu no no che schifo che schifo che schifo dai oggi è la festa del papà ma purtroppo io non c'ho più io mi sono morto vabbè sei tu il mio papino ma che no che stai dicendo no smettilo smettilo che schifo vabbè ragazzi il video finisce qui mi raccomando lascia con i suoi che noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao no che puoi farmi ti dovo tutti i baci no che schifo ma dai ciao a tutti i suoi ciao a tutti i suoi